Ciao a tutti, oggi parliamo dell'avvelenamento da metaldeide. La metaldeide è una sostanza contenuta nella maggior parte dei lumachicidi, di quelle sostanze che si utilizzano in agricoltura ma anche nei giardini comuni per uccidere le lumache. Quindi è un prodotto di libera vendita e utilizzato molto nei giardini, negli orti e in agricoltura. Quindi questo video è molto importante perché è molto probabile che molti di voi utilizzino lumachicidi, quindi questo video serve per porre l'attenzione su questo tipo di prodotto per evitare chiaramente avvelenamenti da metaldeide da parte dei nostri cani e dei gatti. E' anche uno di quei prodotti che vengono utilizzati per gli avvelenamenti volontari da parte di persone malvagie che cercano di avvelenare i nostri animali a quattro zampe. La metaldeide tendenzialmente attira gli animali, di solito la maggior parte dei veleni attirano gli animali proprio perché in questo caso devono attirare le lumache e quindi come attirano le lumache attirano anche i nostri cani e i nostri gatti. E l'ingestione di questo prodotto è molto tossico e poi vedremo nel video cosa provoca nei nostri animali. Generalmente ha un colore verdastro, si vende sotto forma di granuli verdastri però possono esserci anche altre formulazioni. Quindi ogni prodotto che voi vedete che contiene una metaldeide state attenti perché potrebbe avvelenare il vostro cane, il vostro gatto. Comunque ricordo che nella maggior parte sono contenuti nei lumachicidi. Generalmente la sintomatologia avviene una o due ore dopo l'ingestione di questo prodotto e di solito ha un'azione sul sistema gabaergico, quindi generalmente sistema nervoso centrale, quindi possiamo avere degli spasmi muscolari, delle contrazioni tonico-cloniche, convulsioni, abbiamo pistotono ovvero porta indietro la testa ad arco con la schiena con gli arti estesi e fondamentalmente abbiamo un'ipersalivazione e a volte possono vomitare e nel vomitare c'è questo vomito verdastro verde-azzurro che indica ovviamente l'ingestione del prodotto e possono avere anche diarrea verde-bluastra proprio per la colorazione di questo veleno. Chiaramente non esiste antidoto, in quei casi bisogna immediatamente correre in un pronto soccorso veterinario e cercare innanzitutto di far vomitare il cane in modo tale che elimini la maggior parte del veleno, quindi se ci accorgiamo immediatamente che ha mangiato la metaldeide bisogna correre subito immediatamente perché noi possiamo effettuare un farmaco che induce l'emesi, induce il vomito e in più utilizzare carbone attivo vegetale, se riusciamo a farlo vomitare prima che inizino i segni clinici neurologici. Se questo non avviene ovvero che inizia a ipersalivare, inizia a tremare, inizia ad avere tachipnea, mitriasi e addirittura convulsioni, ovviamente in quei casi bisogna ovviamente portarlo in pronto soccorso perché probabilmente il cane verrà ricoverato, si utilizzeranno dei sedativi per bloccare le convulsioni e resterà ovviamente sedato finché l'effetto del veleno chiaramente non svanisce per evitare ovviamente grossi problemi neurologici causati dalle convulsioni, dalle continue convulsioni che il cane ha. Inoltre la aldeide può avere poi anche una tossicità epatica renale quindi bisogna poi se il cane riesce a superare le 24 ore dall'evento tossico se non ha ovviamente riportato lesioni importanti al fegato e al rene. Questo video serve fondamentalmente per spiegarvi la gravità di questo veleno e anche per ricordarvi sempre che quando utilizzate i veleni ricordatevi sempre che i veleni quando voi li mettete gli animali non devono stare, non devono stare in quella zona, non devono avere accesso in quella zona e dovete considerare il cane e il gatto come se fosse un bambino di 2-3 mesi che è gattona nel giardino e voi avete messo un veleno. Dovete sempre considerare questo e soprattutto dovete ricordare che i veleni vanno sempre tenuti, se uno li utilizza, sotto chiave. Non vanno mai appoggiati sul tavolo, in alto, perché fondamentalmente può capitare che il cane innanzitutto raggiunga la scatola oppure la faccia cadere, oppure casualmente la scatola cada. È capitato, è capitato anche a un mio cliente che il cane riuscì a mangiarsi tutta la scatola di metaldeide provocando poi la morte dell'animale. Quindi mi raccomando, i veleni vanno sempre tenuti in posti sicuri, a chiave e non lasciati in giro. Purtroppo sono molto spesso veleni di libera vendita e quindi la percezione del proprietario è quella di qualcosa che forse non è così grave, ma in realtà nel caso della metaldeide, nel caso dei lumachicidi, sono dei tossici molto gravi che creano grossissime lesioni ai nostri animali e fondamentalmente, a mio odesto parere, non andrebbero neanche venduti in libera vendita proprio perché sarebbe necessario spiegare bene ogni volta che si acquista un veleno che cosa può causare, quindi avere sicuramente un parere professionale che spieghi al proprietario, alla persona che va ad acquistare questi veleni, sia animali, sia bambini, sia, ripeto, di stare molto attenti a utilizzare questi tipi di veleni. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia chiarito l'idea sulla metaldeide e sulla lumachicida e fondamentalmente, se volete sostenere questo progetto, vi ricordo sempre di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e alla prossima!